risposta per anonimo leggiamo la domanda tanti di noi abbiamo sicuramente visto amici o conoscenti che sono bravi con ragazze o che hanno ragazze fighe e tutto quello senza aver studiato formalmente come si fa e facendo tanti errori e tanti non sanno neanche che esista vale la pena impegnarsi se uno prende gli stessi risultati delle persone che ci mettono meno impegno e ci pensano di meno allora anonimo la prima cosa bisogna capire e poi dopo ti rispondo alla domanda la prima cosa bisogna capire è che ci sono a monte tre categorie di uomo anche questa cosa qua è spiegata anche in alcuni video gratis se non sbaglio c'è un video che ho fatto a capodanno dell'anno scorso cioè il 31 dicembre 2019 è un video che è uscito l'ultimo giorno del 2019 dove se non sbaglio ho parlato anche di questa cosa qua delle tre categorie di uomo ci sono i cosiddetti sfigati ci sono i natural e poi ci sono diciamo quelli non so come dire gli sfigati che poi si migliorano diciamo gli sfigati che semplicemente non sono capaci con le ragazze e non saranno mai capaci perché sono totalmente chiusi a questa cosa qua non vogliono proprio guardarci lo considerano una cosa da sfigati poi in realtà sono loro quegli sfigati perché poi non si trovano senza ragazze eccetera e quindi semplicemente rimarranno così non avranno mai risultati con le donne ci sono i cosiddetti natural che sono appunto quelli che ti scrivete nella domanda ovvero quelli che sono già bravi naturalmente con le donne ma non è che sono bravi naturalmente perché sono nati bravi ok qui dovete togliervelo questa cosa qua è perché fin da piccoli erano immersi in un contesto di ragazze magari all'asilo si trovavano sempre a giocare per caso perché è una cosa casuale all'asilo magari si trovavano sempre a giocare con le ragazze poi sono cresciuti anche alle elementari, alle medie e così e quindi non c'è mai stata una transizione da non interagisco con le ragazze a interagire con le ragazze magari erano tre sorelle e loro erano l'unico figlio maschio e magari la madre li portava sempre a giocare al parco e c'erano sempre delle bambine e quindi si sono sempre trovati a interagire con le ragazze e per tutta la vita quindi non c'è mai stata una transizione da non parlo con le ragazze a poi parlare con le ragazze ma non è che sono nati, non c'è il gene non c'è il gene dell'essere capace con le ragazze quindi questa cosa dovete togliere se ce l'avete in testa quindi l'importante non è genetica non è che si nasce bravi con le ragazze è che fin da piccolissimi hanno iniziato a praticare quindi la pratica che la inizi quando sei piccolissimo oppure che la inizi dopo comunque a un certo punto per diventare bravi con le ragazze bisogna interagire con le ragazze quindi però di norma queste persone che sono i cosiddetti natural non sono persone da cui prendere consigli perché appunto non sanno come ci sono arrivati ad avere quei risultati ti dicono semplicemente si te stesso e qualcosa succede aspetta che arrivi quella giusta ma ci provano loro ci sono alcuni che sono magari anche molto belli esteticamente quindi magari non so vanno in discoteca e c'è qualche ragazza magari mezzo ubriaca che ci prova con loro o magari nel circolo sociale ma neanche perché comunque le ragazze di base non ci provano con te ci possono essere delle eccezioni però magari a loro le ragazze sono sempre più dute al cielo non sanno neanche come fanno quindi non ti sanno dare consigli ti dicono sì te stesso aspetta la giusta tu boh fai così non lo so cioè non ti sanno dire come fanno ad avere risultati e poi ci sono diciamo gli sfigati che poi diventano capaci non saprei come definirli non state a forsezzarvi sulla terminologia i seduttori i pick up artist gli artisti a rimorchio chiamateli come cazzo volete quelli che non erano capaci con le ragazze e poi diventano capaci queste persone di norma soprattutto se non insegnano tipo io sono in grado di spiegarti come ci sono arrivati perché hanno fatto tutto il percorso da sfigato a poi essere capace io per esempio quando ho iniziato a insegnare io molte cose non le sapevo spiegare perché la prima volta mi hanno chiesto come si fa un instant date ho detto boh perché lo facevo in maniera automatica però di norma se comunque ci si pensa un attimo si riesce ad andare a ripercorrere un attimo indietro il processo per poi spiegarlo ad un'altra persona quindi bisogna semplicemente capire questa cosa qua e sì per risponderti certo che ti devi impegnare per avere gli stessi risultati adesso poi ne parliamo anche che in realtà puoi avere più di più non devi perforzare gli stessi risultati ok? questa domanda sicuramente arriva da un punto di vista ancora dove sei inizi ancora hai pochi o nessun risultato ma non è che devi non è che puoi avere gli stessi risultati che hanno i natural tu puoi avere molti di più ok? ma molti 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 di più dei risultati che hanno i natural quindi anche per quello impegnarsi però di base parliamo prima della questione di avere gli stessi risultati dei natural certo che ti devi impegnare per avere gli stessi risultati qual è l'alternativa? che rimani nella parte dove dei sfigati dove non ci sono risultati? mi sembra una scelta molto furba quindi non importa questo per esempio l'ho spiegato nel mio primissimo video se andate sul canale di youtube l'ho spiegato nel mio primissimissimo video il video di introduzione che non c'entra niente quanto parte l'istante dall'obiettivo tenendo in considerazione le persone di solito partono già avvantaggiate di norma non si migliorano rimangono sempre lì infatti i cosiddetti natural spartono già che si ci sanno già fare con le ragazze hanno dei risultati scoprono con qualche ragazza magari sono sempre fidanzati e però sono lì da lì ad avere una fidanzata che è una modella una strafia che magari ha un lavoro di un certo rilievo che è una ragazza molto interessante che è stata in 85 paesi e robe così quindi una ragazza anche di livello che non lo so adesso ognuno in realtà dipende da quello che ti interessa però di base è una ragazza molto molto bella a livello modelle ma non ragazze italiane che dicono che fanno le modelle le fotomodelle cioè parliamo di modelle di solito quelle che ci sono nelle sfilate di moda a Milano e quelle ragazze la di norma un natural il tuo amico che conosci dall'infanzia di norma non ha quelle ragazze ok quindi puoi andare molto molto oltre un natural sì ecco ti dico per esempio una credenza che hanno i natural e questo l'ho visto nel mio precedente lavoro fra l'altro una delle persone con cui lavoravo in passato nel mio precedente lavoro e anche all'interno di questo canale di supporto telegram non so se sente questo audio però c'è un altro collega che non è all'interno di questo canale che appunto mi ricordo che mi diceva questa cosa qua e tu sei in discoteca e te la limoni e poi finisci lì adesso non me l'ha detta così però proprio vedevo questa sua impossibilità nel capire che no puoi portartela a casa anche a fine serata non devi per forza arrivare al bacio però lui mi diceva eh arrivi al bacio te la limoni tutta la sera e poi di solito mi arrivano le amiche e me la portano via e certo te la portano via perché non devi stare a limonarti la ragazza tutta la serata devi a un certo punto muovere le cose avanti portarla fuori la discoteca e portartela a casa ok quindi norma i natural non sanno neanche che puoi avere un certo tipo di risultato anche molto semplicemente il portarsi una ragazza la sera stessa ok quindi puoi avere tranquillamente e poi appunto i natural sì magari ce ne sono alcuni ovviamente che magari di solito questi alcuni sono anche persone che sono dei natural però si sono comunque informati su come aver più successo con le ragazze quelli che hanno veramente un sacco di risultati che magari si scoprono un sacco di ragazze di solito non è una cosa che sì possono essere eccezioni però di solito si sono anche informati gli hanno conosciuti alcuni che appunto erano molto bravi dal circolo sociale si erano scoprati tutte le ragazze del loro circolo sociale quindi hanno detto ok devo trovare una soluzione per scoparne più e quindi si sono andati all'approccio a freddo e quindi sono entrati in contatto con tutte queste dinamiche dei approcci di giorno in discoteca eccetera quindi non è che sono tutti dei latin lover che è un sacco di donne è la visione che tu hai dall'esterno cioè è un po' come guarda ti faccio ragione su questa cosa qua la lunghezza la lunghezza media del pene in Italia è di 13 centimetri ora adesso non mi ricordo se è a 13 o 14 mi sembra 13 ora tu chiedi chiedi prendi 10 i tuoi amici o anche 20 non so chiedi a 10 i tuoi amici quanto ce l'hanno lungo ti diranno tutti che ce l'hanno lungo 18 21 25 come è possibile allora che la media nazionale è 13 centimetri chi sono quelli che invece ce l'hanno più corto di 13 centimetri se la media è quella vuol dire che qualcuno ce l'ha più lungo qualcuno ce l'ha più corto qualcuno ce l'ha di 13 però se tu chiedi a tutti i tuoi amici ti diranno no io ce l'ho lungo 16 18 21 tutti almeno 20 tutti ce l'hanno almeno 20 ok quindi è esattamente la stessa cosa con le ragazze questo deriva anche molto dai social che sui social soprattutto su Instagram sono tutti bellissimi palestrati con un sacco di donne sono tutti multimilionari ma poi non è così nella realtà quindi occhio a queste percezioni perché molte volte tutte le volte sono false quindi se poi arrivi ad avere realmente risultati lo vedi che in realtà non è che ci sono quasi tante persone che hanno risultati e comunque come ti ho detto puoi andare molto molto oltre i risultati che hanno i natural io per esempio il primo anno che sono uscito a parcercare ragazze che appunto ero scarso nel primo anno per esempio non sono andato a letto neanche con una ragazza però comunque sono uscito con una ventina di ragazze poi c'erano altri errori logistici vabbè altri errori che facevano appuntento però comunque già sul primo anno sono uscito con 20 ragazze io pensavo non sarei mai uscito con 20 ragazze neanche in tutta la vita ok ad oggi ci sono centinaia centinaia di ragazze con le quali sono uscito cioè se ci penso magari me stesso i cinque anni fa e sei anni fa ma chi cazzo sarebbe mai immaginato che si potesse uscire con centinaia centinaia di ragazze ok quindi di norma un natural non ha questo tipo di risultati ok quindi puoi andare tranquillamente poi ovviamente vi ricordo non fermatevi ad appuntamento e basta dovete anche andare a letto a un certo punto con la ragazza poi se avete interesse in una relazione potete fidanzarvi con le ragazze però il punto è che puoi andare molto molto oltre i risultati che ha diciamo un normale natural ok quindi assolutamente sì impegnati per arrivare a quei risultati perché non c'è altra alternativa cioè qual'è l'alternativa l'alternativa è che non hai nessun tipo di risultato con ragazze per tutta la vita non mi sembra molto furba come mossa quindi impegnati comunque non importa da dove parti importa quanta diciamo quanta voglia di percorrere la strada e ci arrivi comunque poi non so che altro dirti cioè in realtà lo saprei anche però diventa troppo lunga quella cosa vatti a guardare quel mio primissimo video che spiega un po' meglio questa cosa qua del non importa da dove parti importa quanto poi hai voglia di percorrere la strada di solito le persone partono già avvantaggiate poi siccome sono già avvantaggiate stanno benino non si migliorano invece chi parte proprio da zero o totalmente sotto zero comunque con poca o nessuna esperienza siccome ha proprio poca o nessuna esperienza ha più fame ha più voglia ha più grinta di arrivare avanti quindi sì assolutamente ne vale la pena ti devi impegnare e puoi impegnarti per arrivare a risultati anche molto molto maggiori rispetto a quelli che hanno i cosiddetti natural detto ciò se vuoi saperne di più sul come conoscere nuove ragazze anche in tempi di coronavirus come fare per imparare la conversazione con una ragazza come fare per rimuovere le tue paure come portare avanti una conoscenza fino all'andare a letto con una ragazza come costruirti una relazione con una ragazza dai un'occhiata ai link che ci sono in descrizione oppure vai anche sul mio sito www.approcciala.it fatti un giro sul mio sito e sicuramente ritroverai una soluzione adatta anche per te per portarti più velocemente possibile ai tuoi obiettivi detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.